salve a tutti ieri vi ho mostrato la foto fatta così al volo del materiale che ho preso da bellissima e mi ha accompagnato angelica in realtà e cioè voleva ammazzarmi perché per prendere due cose ci siamo state due ore perché poi vabbè Monica molto simpatica molto carina e siamo state lì a chiacchierare quindi il tempo è passato veramente molto velocemente potete immaginare per noi poi quanto può essere piacevole star lì in mezzo a tutte quelle perline quel materiale molto molto carino io purtroppo vado veramente poco da lei e perché mi sposto comunque poco da casa anche se in realtà ce l'ho abbastanza vicino quindi potrei andare anche più spesso e sono andata prevalentemente per prendere un po' di perle perché per questa primavera pensavo a cose abbastanza romantiche carine quindi mi piacciono molto le perle da utilizzare allora vi mostro quelle che ho preso allora ho preso delle perle queste così di bohemia che a me piacciono molto perché sono molto resistenti e scusate la luce ma non si vede benissimo comunque un viola un purple non so adesso di preciso che colore sia questo è il lilac e questo è sempre su un move praticamente da abbinare tra loro e ho preso quindi le 6 mm che sono tipo le saten e delle 4 mm poi ho preso il classico bianco da 4 e da 6 e queste invece sono per le cerate poi sempre come colori neutri ho preso questo al mondo credo un color caffè latte tipo molto romantico e questa da 3 mm che è più o meno la stessa tonalità ma è una saten e matt molto carine da abbinare tra loro e poi un colore che mi piace tantissimo questo diciamo verde acqua un colore latte e menta e l'ho presa da 6 l'ho presa da 4 e poi ho preso quest'altro che è leggermente più scuro e sempre sul verde non è un grigio da abbinare comunque insieme sempre da abbinare a queste per spezzare un po diciamo ho preso le 3 mm emerald credo siano sempre saten e delle perle quelle di poemia e due colori di locaille queste che in realtà avrei voluto prendere le migliori invece poi alla fine ho preso le toe perché mi piaceva il colore è un crystal rivestito con il teal dentro che è un matte comunque e poi questo che invece tipo sono della Miyuki queste 15 è sempre tipo un verde acqua adesso non so di preciso il colore come si chiama molto molto carino tutto l'effetto insieme e Monica molto carina molto simpatico a parte uno sconto che che mi ha fatto e mi ha regalato questo cabochon è un 13x18 con il fondo piatto ed è molto bello il gioco di luce io non ho pensato scusate a toglierlo dalla confezione due secondi lo tolgo eccomi qua e questo come vi dicevo è molto molto carino lì ha in tanti colori e a parte poi vabbè tantissimo materiale che c'era ma come al solito non dobbiamo portarci dietro portafoglio carte di credito o cose del genere perché veramente spenderemo tutto nei prossimi giorni non so se riuscirò a tornare per prendere altre cosine che mi servivano ma probabilmente chiederò la cortesia a Monica di spedirmelo anche se siamo vicine e appunto dovrò prendere anche altre altre cose spero di riuscire a fare qualche altro video anche tutorial nei prossimi giorni adesso mi rimetto al lavoro con alcuni progetti che ho in mente e nei prossimi giorni vi faccio anche qualcosina con buona giornata a presto e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti